zombie apocalypse ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come scaricare e installare discord, prima cosa recarsi sul sito, cliccare su download, scaricare e installare molto semplice, io ho già installato il programma, una volta installato apritelo, il programma è molto semplice da usare, come vedete in altro trovate tutte le chat testuali con i vari canali, sotto trovate i canali vocali con le stanze ai vari giochi, quindi potrete monitorare sempre chi è online in ogni canale, posso chiedere di fare live assieme ad altre persone, scegliere dove è con chi giocare senza problemi, un saluto a tutti e andate a fanculo!